Buongiorno a tutti, oggi è sabato 3 dicembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti dal 35 fino al capitolo 10, versetto 1 e poi versetti dal 6 all'8. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli la messe è abbondante ma sono pochi gli operai, pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamate a sé i suoi discepoli, diede loro il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità e li inviò ordinando loro rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate dicendo che il Regno dei Cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il Vangelo di oggi ce ne accorgiamo è un po' un insieme di diversi brani, di diversi versetti, ecco è un po' un testo composto dalla liturgia per farci contemplare Gesù che percorre le città e i villaggi annunciando il Regno di Dio e in questo suo passaggio compie delle azioni specifiche, in particolare insegna e guarisce. Poi notiamo che l'Evangelista Matteo intende illustrare attraverso questo stile suo particolarmente sintetico ma intenso il fatto che la predicazione di Gesù sia fatta non solo di parole ma anche di atti, di azioni che hanno lo scopo di guarire da ogni malattia e infermità come ci comunica proprio questo testo. Così l'Evangelista Matteo subito mostra la sorgente di questo tipo di predicazione, vedendo le folle ne sentì con passione. Questo quindi testo della liturgia ci porta a contemplare proprio la sorgente della predicazione di Gesù. Gesù vede tutte quelle persone malate non come le possiamo vedere noi ma come un pastore vede, è scritto, le sue pecore stanche e sfinite. Questo è un paragone che ormai a noi non dice più nulla però in passato dobbiamo considerare che le pecore erano l'unica ricchezza del pastore, l'unica risorsa che aveva lui per vivere. Ecco cosa significa guardare gli altri come li guarda un pastore pieno di compassione, cioè guardare gli altri come unica fonte di vita, di felicità per se stesso, per cui se vedo uno che sta male anche io in qualche modo sto male perché mi rendo conto che vado in rovina io senza di lui. Ecco perché poi Gesù chiede, almeno qui in questo testo è un po' costruito, l'abbiamo detto, preghiere ai discepoli perché arrivino operai per la messe, perché ancora oggi questa preghiera è valida, per questo la liturgia ci mette insieme questi testi. Ancora oggi abbiamo bisogno di persone che si sentano chiamati a mettere la felicità degli altri prima della propria, questo significa essere, occuparsi delle pecore. Perciò nel Vangelo Gesù consegna ai suoi discepoli non solo la preghiera perché altre persone si sentano chiamate a dare ciò che gratuitamente tutti abbiamo ricevuto, ma anche la possibilità di guarire dalle malattie, liberare dai demoni nel suo nome. Il segreto di tutto sta nel dono gratuito di sé e questo il Vangelo lo sigilla, questo testo che la liturgia ci passa. Nell'ultima frase gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. qui sta la chiave di tutto, ma che cosa abbiamo ricevuto? Cosa siamo chiamati a dare? È proprio lo sguardo di compassione di Gesù su di noi, sulla nostra vita. Gesù gratuitamente ha posto su ciascuno di noi uno sguardo di compassione, perciò anche noi siamo chiamati a donarlo gratuitamente agli altri, non per essere migliori, ma perché arriviamo anche noi, come ha fatto Gesù, a unificare interiormente il senso della vista, quindi vedere le cose, vedere le persone e la capacità di entrare in relazione con gli altri attraverso il corpo, attraverso i sensi, attraverso ciò che raggiunge uno stato interiore, che è la compassione, questo stato interiore in cui noi riusciamo a entrare nella realtà dell'altro. E compassione è un po' più di quello che sto cercando di comunicare, l'empatia, sentire quello che sente l'altro. La compassione è di più. Compassione significa compatire, cioè portare su di sé le gioie e i dolori dell'altro, perché l'altra persona, qualsiasi persona che mi è accanto, questo ci insegna Gesù, è importante per me, per la mia vita, per la mia salvezza, questo ci insegna Gesù. Come fare a realizzare questo? Soprattutto in questo tempo in cui noi siamo chiamati a mettere in pratica questo insegnamento e in cui noi avvertiamo tutti la necessità di fare da sé più che dare importanza agli altri. Chiediamocelo, chiediamolo, chiediamocelo noi stessi in questo sabato della prima settimana di avvento. Come possiamo? Vedere non solo semplicemente gli altri, ma anche sentire cosa mi donano gli altri di grande, di bello, cosa posso portare io dell'altro perché io possa essere salvato e perché noi possiamo essere salvati. Non si tratta solo di affinare semplicemente una capacità umana di accoglienza, qua lo comprendiamo, ma di accogliere proprio questo dono di Dio, questo dono di Dio che mi fa assomigliare a questo pastore che si prende cura delle pecore, questo dono di Dio che mi comunica anche l'altro. E si tratta quindi di entrare in questa capacità che la Bibbia e la sapienza antica chiama ascolto. L'ascolto della parola di Dio non è soltanto ascoltare, sentire con l'udito la sua parola, ma oggi il Vangelo ci insegna che ascoltare la parola di Dio è una capacità interiore che apre alla compassione, perché la nostra presenza del mondo può diventare significativa, può diventare quella presenza che diventa annuncio della guarigione, della liberazione della parola di Dio, che solo Dio può compiere, ma di cui noi siamo portatori, proprio perché dobbiamo crescere in questa capacità di ascolto verso noi stessi, ma questo ascolto completo che ci aiuta a sentire viva in noi la parola di Dio, vivi gli altri dentro di noi e quindi così poter generare in noi la parola di Dio, generare in noi ciò che gli altri richiedono e ciò che gli altri ci donano e quindi donare gratuitamente ciò che riceviamo. Come sottolinea la frase, la fine proprio di questo testo e come ci insegna anche la profezia del profeta Esaia che oggi la liturgia ci fa ascoltare nella prima lettura e che insieme a voi voglio pregare e pronunciare. In alcune sue parti siamo nel libro del profeta Esaia capitolo 30 versetti dal 19 e poi capitolo 21 e 20 versetti 21 e poi 26. Popolo di Sion che abiti a Gerusalemme tu non dovrai più piangere. A un tuo grido di supplica il Signore ti farà grazia. Appena udrà, udrà, ti darà risposta. Anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione non si terrà più nascosto il tuo maestro. I tuoi occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te. Questa è la strada, percorretela. Casomai andiate a destra o a sinistra. La luce della luna sarà come la luce del sole, la luce del sole sarà sette volte di più come la luce di sette giorni quando il Signore curerà la piaga del suo popolo e guarirà le levidure prodotte dalle sue percosse. Impariamo da queste parole del profeta, da questa liturgia che ce ne abbiamo oggi a sentire col cuore le parole di Dio, le parole di Gesù, perché mentre camminiamo nel buio, nel deserto, ascoltiamo dentro il cuore, ascoltiamo questa capacità di ascolto, il grido della Chiesa, Maranatà, vieni Signore Gesù, grido di speranza, grido che ci dona la pace. Buona giornata.